Hanno lavorato tutta la mattina i tecnici dell'Acquedotto Pugliese che sono intervenuti in corso Garibaldi a Foggia dopo l'apertura di una voragine dinanzi alla sede della prefettura. La buca, molto probabilmente provocata da una perdita di acqua, ha causato la chiusura del tratto di strada interdetto alla circolazione stradale. Subito dopo l'allarme, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Foggia, Antonio Bove, i tecnici del servizio lavori pubblici, hanno informato l'Acquedotto Pugliese che questa mattina ha mandato i tecnici che hanno riscontrato appunto la falla e la forte perdita di acqua di una conduttura idrica sotterranea. La strada è stata chiusa al traffico proprio per consentire ai tecnici di Acquedotto Pugliese di predisporre gli interventi necessari per il ripristino della strada e della conduttura danneggiata. È la prima volta che una voragine si apre davanti alla prefettura, anche se in passato problemi. Erano stati registrati invece in via Napoli, alla periferia del capoluogo d'Auno, sempre per una falla nella condotta idrica che aveva causato lo sprofondamento del manto stradale.